Noi non fanno dialogare, se voi avete qualche problema, qualche problema, il problema ci avete già di voce, noi ci sono qualche problema, perché non è che siamo noi che fattigiani già fatti, ci piacevano, hai capito? Ma devi andare da quelli di primo che hanno fatto i cassini. Ancora, non sto dico, cambi dico, devi cambiare dico, stavete di solo le stesse cose però, stavete di solo, di le stesse, le stesse cose. No, ma noi siamo arrivati, abbiamo trovato 10 milioni di pubblici. E li trovate i soldi, li dovete trovare. Le bossalina ruota, le bossalina ruota, la vicardo scusa, ma lo sai che cosa vuol dire? Sì, sono bambini di tappi, no, è lei che non vuole capire, è lei che non vuole capire. E mi viene in passante. Non ci sono bambini di tappi, è lei che non vuole capire, è lei che non vuole capire. Ma, non vuole capire, è lei che non vuole capire, ma tu che ne sai di quello che passavamo noi? Ma che ne sai? Ancora che fatti? Ma che? E' cortesia consigliere? Forse è il caso che il signore Massimero, un attimo, per favore, scusi. Scusi. Scusi, ma va va. A presto.